Oggi abbiamo disputato la partita della Nazionale dei Termotati contro la Nazionale Attori e quindi vi diamo la tua testimonianza, un messaggio di coraggio, di forza. Già il fatto che siamo presenti qua vuol dire che noi crediamo in un futuro migliore, quindi io insieme ai miei colleghi della Nazionale Attori partecipiamo spesso a queste iniziative e da quando purtroppo queste zone sono state colpite dal terremoto ci hanno colpito moltissimo perché siamo stati colpi di noi, non in prima persona ma proprio di conseguenza. Ci sentiamo in dovere e con grande piacere di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché venissero ripristinati queste zone per ridare la casa, la dignità, il lavoro alle persone perché senza la casa, senza il lavoro non sarà dignità. Noi saremo sempre presenti, questo è l'ennesimo evento a cui partecipiamo, ce ne saranno tanti altri e non vi molliamo, stiamo sempre con voi. Il nostro motto è «Insieme gliela famo». Insieme gliela famo.